Musica Appassionati di basket, ben ritrovati, Raffaele Baldini vi dà il benvenuto per una nuova rubrica grazie all'egida di Basket Coach e Basket Net con ospite, come sempre d'eccezione, giornalista ormai internazionale Sergio Taucer Buongiorno a tutti voi, grazie Sergio, allora innanzitutto noi struttureremo questa intervista in diversi step, in macro argomenti il primo è quello d'attualità e parto subito con qualcosa di pungente che ultimamente ha riempito le cronache dei giornali sportivi cestistici Romeo Sacchetti si lamenta, la nazionale italiana, giocatori che durante l'intervallo prendono i cellulari ti faccio una domanda Sergio, questo è segno probabilmente che le gerarchie non ci sono più, che i giocatori sono più viziati, che i giocatori possono fare quello che vogliono o c'è qualcosa d'altro? C'è una modernità che ormai è una tecnologia che avanza e tra virgolette calpesta anche quelli che erano i limiti di un giocatore, dell'allenatore? Il discorso è estremamente complesso e non saprei veramente dove cominciare innanzitutto secondo me forse tutto quanto risale a questa disastrosa sciagurata, trova tu l'aggettivo che vuoi iniziativa della FIBA di fare queste disgraziatissime finestre per la nazionale cioè i giocatori da quanto ne so, da quanto ho parlato anche, ho fatto un'intervista con Bostia Nachbar che è il capo del sindacato dei giocatori dell'Eurolega, mi ha detto che andando in giro per l'Europa lui vede che i giocatori hanno desiderio di giocare nazionale che però è assolutamente impossibile fare in modo che ci siano questi stacchi di concentrazione come dirli nel senso che quando uno comincia la stagione di club, dovunque giochi sia nell'NBA che in Europa lui è focalizzato esattamente sempre e solo su quanto si sta facendo nel club e per lui la nazionale a questo punto diventa una distrazione e diventa un disturbo un disturbo in tutti i sensi nel senso che intanto non si sa mai, guarda caso, può infortunarsi in nazionale e a questo punto tutti i suoi guadagni vanno a remengo perché perde lo status nel club e l'anno dopo magari lo vendono e guadagna la metà, per cui ci va intanto con i piedi di piombo e secondo poi è proprio una questione di concentrazione e di fatica nel senso che con il club si lavora in un modo il nazionale si lavora in un altro modo, c'è la possibilità dopo tante trasferte con l'Eurolega 30 partite, con il campionato nazionale, con magari altre coppe, coppette varie che il giocatore sia a quel punto anche sia mentalmente che anche proprio fisicamente stanco per cui è estremamente difficile mettere su un ambiente in una nazionale nel quale i giocatori possono, come dire, staccare da quelli che sono i loro impegni per il club e cominciare a pensare al bene comune, a fare gruppo soprattutto perché quella è la cosa assolutamente fondamentale cioè leggevo proprio sul blog di Dino Raja e lui dice, noi a nostro tempo per una manifestazione che si giocava tarda estate, inizio ottunno, cominciavamo la preparazione nazionale il 5 di maggio ci facciamo tre mesi di preparazione nazionale, è chiaro che a questo punto se la struttura nazionale lo staff, l'allenatore sono tanto bravi, i giocatori sono anche tanto ricettivi si può creare un gruppo e allora tutti quanti cominciano a rimanere nella stessa direzione c'è tutti per uno, uno per tutti, eccetera secondo me questa è la ragione fondamentale poi come dici tu, il fatto che oggigiorno ci siano tutte queste tecnologie i cellulari, ognuno ha varie incombenze uno scrive su un blog, quell'altro, non so, ha i vari sponsor personali deve andare a una presentazione e ci sono tutti questi impegni anche extra-cessistici che sono molto più gratificanti sia gratificanti che anche sono molto più comuni ce ne sono tanti di più, questo può anche influire sul fatto che il gruppo non si formi Certo, sempre per stare d'attualità, siamo qui nella tua opicina a Trieste c'è stato un clinic con Lionel Hollins, allenatore NBA, ex Brooklyn Nets il quale ha anche parlato un po' dell'aspetto giovani giocatori di pallacanestro social, giovani giocatori di pallacanestro e la tecnologia lui dice sostanzialmente che il problema che adesso magari l'italiano giocatore medio incontra ad una certa età, cioè professionismo abbinato a tutte queste influenze mediatiche viene vissuto molto prima, metabolizzato molto prima e quindi il professionismo viene, come dire, digerito da subito magari dal giovane ragazzino americano questo però non può portare un po' una sorta di aridità una sorta di... una costruzione di un robot più che un uomo e un giocatore con i suoi pregi, difetti e debolezza ma questo è... bisognerebbe, come dire, inciderlo su una lapide e metterlo in un spogliatoio e averlo in mente sempre non ho mai sentito, devo dire, me lo dici tu adesso una cosa tanto più vera, è verissimo cioè è assolutamente firmo al mille per cento questo è il problema forse fondamentale della società di oggi cioè a me mi sono, come dire, mi è girato lo stomaco quando ho letto una dichiarazione dell'australiano è una grande stella di Philadelphia, nuovo come si chiama, quello lì che dopo un anno di università ha detto sì, un anno e dopo basta un anno di troppo cioè l'avrei preso a calci nel sedere cioè un anno di troppo sono tre anni di troppo poco cioè tu non puoi arrivare a guadagnare 14, 20, 30 milioni di dollari l'anno se alle spalle non hai una preparazione sia ambientale che culturale che ti permetta di assorbire tutto questo ben di Dio che ti viene in mano se parliamo di Simons Simons, esatto a questo punto è verissimo questo tu dovresti essere innanzitutto una persona che si è fatta scusate il termine, il mazzo per arrivare dove si è arrivato cioè tu devi farti, tu devi allenarti, devi essere capace di alzarti alle 5 di mattina andare a correre, a fare 2000 tiri a canestro due allenamenti al giorno cioè se tu vuoi diventare professionista devi essere professionista in testa devi allenarti anche come un disperato, come un disgraziato e con tutto ciò devi avere anche una cultura generale una cultura comunque proprio nel senso più nobile della parola una cultura d'animo che ti permetta di essere al di sopra di tutte queste cose cioè i soldi che tu guadagni in modo anche molto facile non devono condizionarti devi comunque avere la tua etica del lavoro e tutto questo si acquisisce secondo me solamente attraverso un grandissimo lavoro di educazione chiaro poi in America il problema è anche un altro che è il problema di fondo che dico sempre da quando David Stern ha trasferito il basket dall'università ai playground di Brooklyn cioè il livello culturale a questo punto della massa di coloro che si avvicinano al basket è calato drasticamente cioè è piombato a zero per cui il basket oggigiorno soprattutto in America si gioca fra gente che ha una cultura assolutamente insufficiente per poter gestire tutto quello che succede attorno a lei A proposito di culture prima hai parlato di influenze contrattuali chiamiamole così si è parlato anche molto della questione Danilo Gallinari, Marco Bellinelli con vocazioni in nazionale facciamo un gioco proprio molto semplice Sergio Taucher ha un contratto con una franchigia NBA di milioni di dollari firmato con gli occhi della franchigia su di te vieni chiamato in nazionale per la qualificazione mondiale o quale essa sia Sergio Taucher cosa fa? Sergio Taucher vorrebbe andare a giocare per la nazionale ma si rende conto che il club non lo lascia e a questo punto io personalmente non avrei mai un contratto nell'NBA anche se fossi LeBron James perché dico sempre le cose come le penso per cui per me è un valore assolutamente imprescindibile e sono pronto a tranne anche tutte le conseguenze sempre quando succedono questi conflitti cioè io dico quel che penso e a questo punto probabilmente nell'NBA ci giocherei ancora a mezza stagione io andrei a giocare in nazionale sapendo benissimo però che l'anno prossimo mi svendono oppure mi tagliano il problema è tutto qua se tu non vuoi essere tagliato se tu sei tanto io comunque nell'NBA non ci andrei mai perché per me il basket come sapete benissimo è uno sport logico per gente intelligente andare a giocare fra scemi non mi piacerebbe assolutamente per cui rimarei sicuramente a giocare in Europa però ipoteticamente come dici tu se fossi al posto di Gallinari prendendo tanti di quei soldi troverei tutte le scuse possibili per non andare in nazionale